What's up YouTube? Sono Giuseppe Conte, questa è MIGA STATWORK e oggi costruirò delle fiorite in legno. Ho comprato le solite tavole di abete di 15 centimetri di larghezza e da 4 metri e anche una tavola un po' più spessa da 5 centimetri sempre da 4 metri e con la mia nuova slitta taglio le parti che mi servono per costruire le fioriere. Con la troncatrice taglio le doghe da 15 centimetri per una lunghezza di 80. E questo è tutto il legno tagliato, le doghe da 15 centimetri di larghezza, le tavole con lo spessore di 5 centimetri più degli scatti che utilizzerò più avanti. Adesso inizio a segnare i fori da praticare così tutte le viti andranno sempre allo stesso posto. Grazie a tutti! Ed inizio il montaggio vero e proprio di ogni singola fioriera aggiungendo della colla più 3 doghe per ogni lato. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sì. adesso mondo il fondo della fioriera utilizzando delle tavole di scatto e lascerò una fessura al centro così potrò avere uno scolo quando innaffierò monto anche l'altro lato ho terminato il montaggio delle cinque fioriere inizio a levigarle e visto che è una bella giornata mi metto fuori do due mani di impregnante per una maggiore protezione agli agenti atmosferici do anche due mani di olio di lino però questa volta diluendolo con una proporzione di uno ad uno con della trementina a 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 un momento per proteggere il legno dal marciume utilizzo della plastica per serte e rivestisco l'interno della fioriera grazie a tutti non mi assottiglio più di tanto a rivestirlo anche perché andrà il terreno all'interno l'importante però è utilizzare un unico grande pezzo di plastica inizio posizionando le fioriere incastrandole fra di loro ed inizio a riempirle di terreno ma prima ho forato la plastica nel lato della rete metallica grazie a tutti dall'installazione del cancello elettrico avevo sempre voluto mettere in sicurezza l'apertura soprattutto per le mie nipotine e non volevo usare la solita rete metallica così mi è venuta l'idea delle fioriere è proprio per questo ho utilizzato lateralmente le tavole da 5 cm così si incastrano alla perfezione e si possono avere una miriade di configurazioni questo è me che sa tu il canale dei fai da te e che posso dire clicca mi piace commenta e soprattutto iscriviti grazie per la visione grazie a tutti